Dunque, innanzitutto ricordatevi bene che la puntata di oggi è doppia, vale sia per oggi che per domani, perché ciò che celebriamo oggi e ciò che celebriamo domani è strettamente collegato. Infatti il primo e il 2 di novembre siamo chiamati a puntare lo sguardo verso l'essenziale. Spesso ci perdiamo in mille faccende, i cuori sono rivolti in molte direzioni, mentre in questi due giorni la Chiesa ci offre l'occasione per andare al sodo e compiere questa riflessione. Tutti siamo in viaggio ed occorre ricordarci che a un certo punto arriveremo ad una stazione dove si scenderà, per arrivare in un posto bellissimo dove vivremo per sempre. La nostra esistenza possiamo immaginarcela come un treno in corsa, ogni giorno sei sempre più vicino alla stazione di arrivo, è un treno nel suo viaggiare attraversa città, campagne, viaggio di notte, di giorno, è la vita, è la vita che scorre ora dopo ora, attraversa varie situazioni, momenti di luce e di buio, ma dobbiamo ricordarci che il convoglio della nostra esistenza non viaggia senza meta ma vi è una stazione di arrivo e questa sarà la morte. Attenzione però, in quella stazione vi si sosterà un attimo la vera destinazione e la località che ci ha preparato Dio e alla quale ci invita, destinazione che spesso dimentichiamo perché sovente ci illudiamo di vivere sempre qui sulla terra ma non è affatto così. La morte come ci ha rivelato Gesù è solo un momento di passaggio, carico di incognite sì, ci fa anche paura, è un momento sicuramente carico di incognite così come è carico di incognite un viaggio che si sta per intraprendere, però morire sarà come transitare in una stazione, ci si sta un attimo per poi entrare nella località dove hai deciso di andare. La solennità di tutti i santi e la commemorazione dei defunti sono un'occasione importante durante la frenesia dell'anno per rallentare un momento e renderci conto di dove stiamo andando. Siamo a bordo di un treno che ha come destinazione una stazione ben precisa che è la morte dove vi arriveremo tutti, chi prima chi dopo, ma lì vi staremo un attimo perché la vera meta è la vita eterna, un luogo, una città diciamo così, dove vivremo per sempre, dove incontreremo Dio e tutte le persone che ci hanno preceduti. La vita non si interrompe definitivamente, il treno della nostra esistenza non precipita nel nulla ma giunge ad un posto ben preciso, la vita eterna. Questo ce l'ho detto non chissà chi ma Gesù Cristo in persona quando è risorto dai morti. C'è un aspetto però che accomuna il Vangelo che leggiamo il primo di novembre e quello che troviamo nella celebrazione della seconda messa del 2 ed è il fatto che quanto abbiamo vissuto nel viaggio terreno è strettamente correlato con ciò che saremo nell'aldilà. Spesso sento dire no? Ma Gesù ci ha detto che dopo la morte risorgiamo ed entreremo nella vita eterna ma non ci ha spiegato come vivremo in questo luogo. è vero non è sceso nei dettagli però ci ha detto qualcosa di essenziale e lo possiamo dedurre proprio dai due brani evangelici, quello che leggiamo il primo di novembre e quello che leggeremo il secondo, il 2. Quello dell'uno è il testo delle beatitudini e quello del 2 è il passaggio bello tosto del Vangelo di Matteo dove è riportato il giudizio finale, dove saremo giudicati sull'amore. È vero che tutti risorgeremo, che il nostro treno un giorno si fermerà alla stazione della morte e vi scenderemo per entrare nella città eterna ma in che modo vi vivremo dipenderà da ciò che siamo stati durante il viaggio. Ecco allora che occorre farci una domanda secca senza cercare di accampare scuse o alibi. Come sto vivendo io? Solo per me stesso, per me stessa? Nella mia vita c'è spazio anche per Dio, c'è anche spazio per gli altri? Se oggi dovesse concludersi il mio viaggio terreno sarei contento di me e della mia esistenza. Tutti, poiché siamo figli di Dio e amati da Lui, siamo stati non solo progettati per l'eternità ma la nostra destinazione è il paradiso. Siamo chiamati ad essere santi. I santi sono tutti coloro che sono in paradiso, non gente perfetta ma che ha cercato di amare nella propria esistenza, che ha fatto spazio nel proprio cuore al Signore e anche agli altri. Vi è però anche l'opzione dell'inferno e questo dipenderà dallo stato di salute del nostro animo. Se durante tutta la nostra esistenza abbiamo tenuto fuori sia Dio che il prossimo, non potremo reggere all'idea di vivere tutta la vita con Dio e con gli altri, ma preferiremo la solitudine infernale. L'aldilà sarà continuazione di quello che siamo qua. approfittiamo di questi due giorni per ricordarci che siamo in viaggio, che la morte è solo una stazione di passaggio e che ciò che conta è avere un animo pronto per la vera meta che è il paradiso. Senza dimenticarci di pregare soprattutto domani, 2 novembre, per quanti hanno già concluso questo viaggio. E domani, visto che non riceverete l'audio, poiché come vi dicevo all'inizio questa puntata è doppia, usate quei quattro minuti che avreste usato per ascoltare il commento per pregare per i defunti, per i defunti della vostra famiglia, amici defunti, per quanti avete conosciuto e non ci sono più e per tutti quei defunti direi anche per i quali più nessuno prega. Buona giornata e buon primo novembre e buon 2 novembre domani.